Buon poveriggio dalle telegiornali. In primo piano la situazione coronavirus con i dati, quelli che sono stati resi noti ovviamente nelle pomeriggio di ieri da Regione Lombardia, dati che dimostrano comunque fortunatamente una curva, una flessione del contagio e anche a livello nazionale. Tra poco vedremo e sentiremo Locatelli che ci dice che il fattore R0 è vicino allo 0 perché è tra lo 0,5 e lo 0,7 ma indubbiamente ci sono ancora purtroppo ieri 130 nuovi contagi nella nostra provincia e ancora 18 morti nella giornata di ieri. Come sempre possiamo dire che il dato, i numeri più importanti riguardano le terapie intensive e i ricoverati non in terapia intensiva. Assolutamente, commentare i dati giornalieri è sempre una cosa complicata perché possono avere determinate variabili, però il dato costante e positivo è la diminuzione delle terapie intensive. meno 27 ma soprattutto siamo scesi sotto una soglia psicologica degli 800, siamo a 790 terapie intensive. Pensate che solo il 3 aprile eravamo a circa 1.400 terapie intensive, quindi 20 giorni fa. In 20 giorni siamo riusciti ad ottenere un risultato importante, positivo anche il dato dei ricoverati non in terapia intensiva. diminuiscono di 500, il numero dei dimessi più 1.400. È chiaro che sono notizie positive che però non è che devono farci presagire che tutto sia già risolto, che sia un continuo miglioramento. affinché sia un continuo miglioramento dobbiamo sempre avere la massima e assoluta cautela, rispettare le norme che ad oggi sono vigenti nel caso in cui si è legittimati ad uscire l'uso della mascherina, il distanziamento sociale. E questo rimarrà la regola fondamentale, la regola numero 1 su tutte per continuare in questo periodo e soprattutto affrontare la fase 2, uscire dal lockdown dal 27 aprile in parte ma soprattutto dal 4 di maggio. e Locatelli dell'Istituto Superiore di Sanità ha detto che il fattore R0, quello famoso per il quale più è alto, più dobbiamo stare chiusi in casa per intenderci, per semplificarla, ora dal 2, 2, 5 che era nel pieno dell'epidemia è tornato su valori che ci consentono di pensare a riprogrammare la nostra vita 0,5, 0,7. Oggi è il quarto giorno consecutiva in cui il numero dei soggetti positivi è in calo ed è rimarchevole per quanto sempre feriscono le nostre coscienze i numeri sui decessi che in quattro regioni fortunatamente non si è registrato alcun decesso e in due regioni addizionali c'è stato un solo decesso. Tuttavia è importante condividere con voi, anche perché devo dire, poi è anche apparso su qualche sito web di giornali a larga diffusione, che il cosiddetto indice di contagiosità, l'R0, l'RT, in funzione delle regioni, ma domani avrete i dettagli, si attesta tra 0,5 e 0,7. Quindi se vi ricordate l'ultima volta in cui sono stato qui vi avevo parlato di dati che indicavano un indice di contagiosità attualizzato al tempo, quindi un R con T di 0,8, il che conferma questa riduzione. E sempre il professor Locatelli ha detto per quanto riguarda il vaccino purtroppo dovremo attendere dei mesi. Oggi sostanzialmente abbiamo evidenza che per due potenziali vaccini negli Stati Uniti, uno in Inghilterra, uno in Germania e uno in Cina, vi è una fase avanzata di sviluppo. Dove però anche qui deve essere detto molto chiaramente fase avanzata di sviluppo non vuol dire affatto imminenza di commercializzazione, ma vuol dire messa a punto di approcci vaccinali in grado di sviluppare una risposta immunologica protettiva per chi verrà sottoposto al vaccino. A oggi non abbiamo risposte certe su quanto dura l'immunità protettiva in soggetti che di fatto verranno sottoposti a una profilassi vaccinale. Ripeto, è assolutamente rassicurante che grandi gruppi di ricerca nel mondo si impegnino su questo aspetto. Dall'altro però bisogna appunto dire chiaramente che esistono ancora dei mesi prima di poter pensare alla commercializzazione di questi vaccini ed esiste ancora la domanda non definita nella sua risposta, quindi risolta se preferite, di quanto durerà la protezione vaccinale. Anche qui sarà assolutamente fondamentale una collaborazione a tutto tondo. E di lavoro, come potete capire, ce n'è ancora parecchio prima di maturare una certa sicurezza in questo post-emergenza. Si parla in questi giorni del calendario delle riaperture, di quando si potrà fare questo, quando si potrà fare quell'altro, quando riapriranno i negozi, quando i ristoranti. Insomma, una tabella di marcia, un piano del governo che deve essere nazionale, aveva detto in questi giorni il Presidente del Consiglio Conte, ma ancora non è stato definito. Ci sono tante ipotesi, se ne sta parlando, e alcune stanno prendendo sicuramente più corpo rispetto ad altre. Allora, alcune aziende, quelle che sono pronte, quelle che saranno in grado di garantire gli standard di sicurezza, potranno forse ripartire già il 27, quindi il prossimo lunedì, il 27 aprile, e la maggior parte invece il 4 maggio. Per quanto riguarda parrucchieri e negozi, si sta ragionando tra l'11 e il 18 di maggio. Ma è tutto un discorso in divenire. Entro questo fine settimana il governo aveva anticipato che avrebbe comunicato il piano. Uno dei nodi fondamentali da sbrogliare è quello dei trasporti pubblici, che con il riavvio delle imprese rischierebbe di tornare affollato come prima dell'emergenza. Regione Lombardia sta lavorando a un dossier in vista della graduale ripresa delle attività lavorative dopo il 4 maggio. L'obiettivo è garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, si legge in una nota, evitando però il sovraffollamento nei mezzi pubblici. Una soluzione potrebbe essere quella di favorire gli spostamenti con tragitti il più possibile diretti e veloci, specialmente in direzione delle grandi città. Questa proposta era già stata anticipata dal prefetto di Brescia, Attilio Visconti, intervenendo a Restart e Brescia. Un discorso a parte invece va fatto per il settore edile, dove tendenzialmente gli operatori si spostano su gomma, hanno detto da Palazzo Lombardia, ma per gli uffici e altre tipologie industriali è necessaria una approfondita mappatura. Ulteriori misure di sicurezza saranno attuate dal governo e dovrebbero prevedere, ad esempio, orare il più possibile scaglionati, incentivare l'acquisto dei biglietti online e una tarifazione diversa. Dovrebbe essere anche varata una sanificazione giornaliera obbligatoria per i mezzi e una separazione fra utenti e autisti. Nelle stazioni verranno segnalati i percorsi a senso unico, obbligati, stessa filosofia per gli aeroporti. Su tutti i mezzi di trasporto dovrà essere rispettata la distanza di sicurezza, i sedili utilizzabili saranno probabilmente segnalati da marker e sarà fortemente incentivato l'utilizzo di mascherine. Altra criticità, oltre a quella dei trasporti, è quella delle famiglie, ovviamente, alle prese anche con un discorso economico sempre più importante, sempre più pesante. Un calo di reddito che a volte rasenta addirittura il totale, il 100%. Stando un'indagine condotta per conto di Facile.it, sarebbero oltre 2 milioni le famiglie lombarde che a causa dell'emergenza coronavirus hanno subito un calo del reddito. Scendendo ancora più nello specifico, l'11% delle famiglie contattate per il sondaggio, circa 344.000, ha visto il proprio reddito più che dimezzato. Sarebbero invece 180.000 i nuclei familiari ad aver perso il 100% degli introiti. Ovviamente questi non sono semplici numeri o un semplice esercizio di statistica. Si tratta di intere famiglie che stanno vivendo un vero e proprio periodo di crisi. Oltre il 14% infatti avrebbe dichiarato di trovarsi già oggi in una situazione di difficoltà economica, mentre il 21% ha già adottato misure ad hoc per risparmiare, riducendo anche il budget delle spese alimentari. Ci sono poi molti altri lombardi che hanno sospeso la rate del mutuo e razionalizzato i consumi di casa, come bollette dell'energia e spese telefoniche, o rinunciato ai servizi di intrattenimento a pagamento, come Sky, Netflix o Spotify. Per quanto riguarda le famiglie, ricordiamo alcune iniziative che riguardano l'intervento del Comune. Il Fondo Sostieni Brescia sono state presentate 376 domande, raccolti fino ad ora 2.240.000 euro. L'obiettivo, dice il Comune di Brescia, è arrivare ai 3 milioni. Le richieste possono essere presentate, attenzione, fino alle 20 di questa sera e per presentare la vostra richiesta di un buono per essere sostenuti dalle Comune di Brescia non dovete far altro che andare sul sito internet istituzionale delle Comune di Brescia, www.comune.brescia.it. A partire dal lunedì 27 aprile verranno erogati i contributi per le domande complete e in regola con i requisiti previsti e saranno inviate le richieste di integrazione invece per le domande incomplete. Sempre da parte del Comune ci sono anche i buoni per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità. Ricordate, il milione di euro che era stato stanziato dal Governo è derogato attraverso i Comuni. Le domande giunte fino al 9 aprile erano 4.664 già esaminate, di queste ne sono state accolte e liquidate 3.094, pari al 69%. L'importo è 1.050.000 euro, il voucher è un valore medio circa 340 euro per ogni voucher che viene consegnato alle famiglie e una volta esaurito il fondo di questo 1.050.000 per le richieste eccedenti che sono arrivate però entro il 14 di aprile il Comune integrerà con risorse proprie per garantire che tutti gli eventi di ritto possano ricevere il buono attingendo al fondo Sostieni Brescia. Per le famiglie che purtroppo sono state colpite da un evento luttuoso, hanno perso un parente dal 23 di febbraio senza limiti di reddito o di patrimonio, semplicemente con una richiesta che potete inviare facendola sul sito del Comune di Brescia il Comune erogherà un contributo, una tanto, quindi 250 euro per ogni evento luttuoso questo fino alla giornata di quest'oggi, quindi l'invito è a contattare il Comune attraverso il proprio sito internet oppure sul nostro sito internet trovate anche tutte le altre informazioni. Veniamo a continuare a parlare dell'emergenza coronavirus perché oltre alle famiglie gli altri colpiti sono stati coloro che hanno lavorato in prima linea, innanzitutto gli operatori sanitari e tra gli operatori sanitari la maggior parte, pensate, sono state donne. Il 68% degli operatori sanitari colpiti dal coronavirus sono donne, a dirlo è uno studio del Ministero della Salute che ha fatto un focus sui contagi fra tutti coloro che combattono in prima linea la pandemia. Un numero che non può lasciare indifferente è il 10,7% dei positivi in Italia come operatori sanitari. I primi a dare tutto per aiutare ma anche i primi a rischiare stando in costante contatto con pazienti contagiati. Dall'inizio di questa emergenza infatti sono circa 17.000 gli operatori contagiati dal covid come quasi il 70% sono donne e 32% uomini. Nel dettaglio la categoria in assoluto più colpita è quella degli ostetrici e degli infermieri con il 43,2% di positivi sul totale. Seguono medici ospedalieri con il 19% e gli operatori sociosanitari con quasi il 10%. Stando alle statistiche la letalità fra gli operatori sanitari è inferiore rispetto alla letalità totale. Probabilmente questo è dovuto al fatto che gli operatori sanitari asintomatici e pauci sintomatici sono stati maggiormente testati rispetto alla popolazione generale. Lo sapete, ieri è iniziato il Ramadan e sarà un Ramadan molto diverso in questa emergenza coronavirus. A questo proposito c'è una lettera che il Presidente del Consiglio Comunale di Brescia, Roberto Camarata, ha inviato alla comunità islamica per ringraziarla. Il giorno giusto scrive Camarata per ringraziare i cittadini bresciani di religione islamica per il modo straordinario con cui hanno dimostrato anche in queste difficili settimane di emergenza di essere parte integrante di una comunità locale sempre più plurale e sempre più capace di affrontare anche le sfide più difficili proprio perché riconosce, rispetta e valorizza la sua pluralità. In particolare Camarata dice Le amiche e gli amici musulmani bresciani hanno contribuito e continuano a contribuire con grande generosità raccogliendo fondi, recuperando e offrendo materiali necessari alle strutture sanitarie, organizzando distribuzioni di aiuti alimentari e di beni di prima necessità a chi ne ha bisogno. Tutto ciò senza distinzione, su base etnica e religiosa, ma coordinandosi con i servizi sociali del Comune, con i consigli di quartiere, con la protezione civile a supporto di tutti i cittadini bresciani bisognosi di aiuto. Il mese di Ramadan è in arrivo, il primo venerdì sarà il primo Ramadan in sala e noi siamo sempre preoccupati per voi, per la vostra salute, per questo motivo il centro è chiuso. Voi sapete anche che fino al mese prossimo sarà chiuso tutte le attività, parte dal governo italiano e anche noi come il centro siamo chiusi. Questo anno passiamo Ramadan magari in modo diverso dagli altri Ramadan. lo passiamo a casa purtroppo per questa pandemia che passa praticamente nel mondo intero, non solo in Italia. e speriamo che Allah porta via questa pandemia dall'Italia e da tutto il mondo. Ricordiamo che c'è una campagna del centro culturale islamico praticamente per fare un angolo nella casa come una moschea e così non perdiamo la nostra preghiera e inshallah ritorniamo alla nostra moschea al più presto. E ora parliamo di sport e di sport individuali perché potrebbero essere i primi ad essere fra virgolette sbloccati al termine di questo lockdown il 4 di maggio, quindi non solamente jogging ma anche tutti quegli sport che ci permettono innanzitutto di essere all'aria aperta quindi con facilità nella distanza sociale ma soprattutto individuale. Per molti sarebbe un sogno, per l'ormai nota fase 2 sarebbe allo studio un via libera agli sport individuali non solo il jogging. Tutto ovviamente dovrà essere fatto nel rispetto delle norme di sicurezza prima fra tutti il distanziamento sociale. Restano vietate quindi le partitelle di basket, calcetto e altri sport di contatto anche nei campetti amatoriali ma sembra che almeno i ciclisti potranno tornare a sfogarsi anche se non in gruppo. Saranno quindi incentivate le passeggiate e le corsette in campagna, in montagna o al mare l'importante è sempre evitare qualsiasi tipo di assembramento. Restano vietate le attività al chiuso, niente palestre quindi corsi e allenamenti a parte quelli individuali o comunque con la distanza di sicurezza. Sperando che il bel tempo continui anche dopo il 4 maggio e che queste norme vengano realmente approvate le attività andranno praticamente all'aria aperta. Dopo questa lunga quarantena potrebbe anche non essere una limitazione. E speriamo infatti che perlomeno ci sia questa ripartenza. La vedremo nelle prossime ore. Le notizie continuano ad aggiornarsi sul nostro sito internet e livebrescia.tv sul quale come sempre trovate anche la pagina diretta del nostro canale 16197 del Digitale Terrestre. Se invece volete ricevere direttamente le nostre notizie sul vostro telefonino non dovete far altro che iscrivervi ai nostri canali Telegram e Live Brescia News e Live Brescia Sport. Ci fermiamo qui, ci rivediamo alle 19 stasera se volete con la nostra edizione serale. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio. Grazie.